Al centro i temi sociali ed economici, non solo relativi ai bisogni delle imprese, ma dell'intero territorio. A Pia CNA ha accolto a Belluno il deputato Piero Fassino, partito democratico, per discutere di alcuni argomenti di primo rilievo per la provincia. Il futuro di questa provincia è molto legata a invertire la tendenza allo spopolamento. Mi serve una politica che in tutti i campi, dal campo energetico al campo degli investimenti, al campo della mobilità, delle infrastrutture e dei trasporti, tenga conto della specificità montana. Quindi riprendere rapidamente cosa su cui intendo lavorare, la legge per la montagna, che era stata nella scorsa legislatura avviata ma non portata a compimento, così come i programmi di promozione e di sostegno alle politiche di investimento, di investimento nei vari settori, di investimento nelle infrastrutture, di investimento nella formazione. È importantissimo il tema della formazione. Dobbiamo cercare di portare all'interno della scuola la passione per i lavori manuali, per far sì che ci sia un attaccamento dei giovani alla professione dell'artigiano e di quei lavori che sono poco discussi e poco trattati. Abbiamo parlato anche del tema dell'autonomia differenziata, visto che è appena stato approvato il decreto che individua e inizia il percorso che dovrebbe portare al risultato definitivo. Sicuramente è un percorso molto lungo e complicato e non è nemmeno chiaro se arriverà effettivamente il risultato. Anche l'onorevole Fassino si è dimostrato comunque attento e interessato alla cosa e favorevole al fatto che i territori possano esprimere, come è previsto anche in Costituzione, le loro potenzialità per cercare di limitare quindi la burocrazia e la possibilità che i centri decisionali siano più vicini ai punti di spesa.